ciao a tutti e ben ritrovati allora come di consueto a dicembre c'è la trilogia di video più attesa dell'anno che sono nell'ordine video presentazione villaggio di babbo natale video la nostra vigilia di natale e video il nostro capodanno ora per quanto riguarda il villaggio di babbo natale è stato presentato e non ha riscosso molto clamore è quello se lo siamo levato oramai siamo al 27 di dicembre e ci tocca il video la nostra vigilia di natale questo è un vlog di cui ho sentito dire grandi cose perché ricco di colpi di scena pathos e soprattutto sentimento ma avendo solo 256 like al momento questo video penso che di sicuro mi hanno tirato un pacco nell'esortarmi a recuperarlo ma oramai siamo in ballo e quindi balliamo non ci resta che tuffarci in questo secondo video della trilogia più attesa di questo dicembre 2021 inizia con chiara da sola sotto le coperte ci ricorda ancora una volta che l'anno prossimo si girerà un film con lei come protagonista e siccome sono ben visibili dei segni sulla testiera del letto lei spiega che sono state le gattine con le loro unghiette e non davide come tutti pensano ora siccome siete in tanti a chiedere la storia di sto film praticamente c'è nessuno e allora lei ci spiega un po' di di cosa si tratta allora innanzitutto sarà un film autoprodotto sarà girato in più città e dicevamo sarà girato in più città e sarà suddiviso in ben due parti allora ci sarà una prima parte e dopo una settimana una seconda parte dice perché con una settimana di differenza ma la capi al momento non si può spiegare di più perché è comunque qualcosa che deve restare nel suo alone di mistero che c'è e deve esserci allora situazione attuale lei ha letto davide è in live e la signora luciana sta seguendo le previsioni meteo perché a quanto pare è prevista tanta neve per il giorno di natale ma adesso è tempo di tirarsi su perché a grande richiesta ecco per voi la loro grande bellissima meravigliosa vigilia di natale allora il video inizia con chiara in versione cenerentola perché perché sta lavando il vestito che sua madre domani indosserà per andare al ballo ceno al ristorante con i parenti e vengo subito ad escrivervi il vestito che indosserà per la festa la signora luciana allora è un vestito di velluto nero a girocollo con le maniche lunghe di taglio dritto e ricoperto da tante piccole borchette metalliche di colore argento e poi finito con quello che è il vero possiamo passare tranquillamente al piacere cioè cosa si fa si fa un salto all'esse lunga per prendere giusto quelle due cosine che andranno ad arricchire la romantica cena a due della vigilia di natale arriva davide con il carrello e non ci crederete mai ma abbiamo preso pure ben due confezioni di quelle tartine che costicchiavano tanto conclusa rapidamente quella che era questa mini spesa si salta in auto e perché perché c'è da andare da arca planet per prendere qualche regalino per le gattine di casa quindi se becchiamo una panoramica di giochini per gatti collarini palline colorate ciotoline per fortuna questo giro dura poco perché è brevissimo e ci ritroviamo alle porte di uno store dolciario davide precede chiara che comunque sta riprendendo il tutto con il suo cellulare e fa slalom tra i vari reparti controlla qualche etichetta e poi rimetti giù ci sono pile e pile di biscotti caramelle cioccolatini il paradiso del golosone insomma e poi dai dolci in scatola passiamo a quelli del banco pasticceria un tribunio di bignè alla nocciola alla vaniglia al cioccolato invitanti cannoncini alla crema pasticcera tutti in fila come fossero tanti piccoli soldatini ma ce ne sono anche con del ripieno al pistacchio e al cioccolato dolcetti ricoperti di frutta e bonbon di cioccolato bianco un tripudio di colori ma fermi lì perché ce n'è pure per chi propende di più per il salato perché perché abbiamo una sezione del banco ricca di pizze e focacce con besciamella e funghi con melanzane grigliate ai formaggi con lo speck c'è solo l'imbarazzo della scelta insomma ora siccome siamo stati tutto il giorno in giro davide non aveva proprio voglia di mettersi ai fornelli per preparare la cena e quindi cosa si fa stasera per cena si va di pizza quindi siamo in auto e chiara nell'attesa che ritorna davide con queste due pizze blogga un po si ritiene molto felice del fatto che i regali li scarteranno il 31 dicembre anziché il 24 non vede l'ora di essere a casa perché appena saranno lì mangeranno la pizza guardando un film può informare la loro utenza che intorno alle 11 e 30 ci sarà una mini live nel canale di davide che davide aprirà apposta per rifare ancora una volta gli auguri a tutti i loro utenti ricordando che c'è ancora da impacchettare i regali e riporli sotto l'albero e sì quest'anno siamo un po in ritardo sulla tabella di marcia ora appena finita di mangiare la pizza organizziamo un piccolo angolo da lavoro dove abbiamo le forbici del nastro e tanti rotoli di carta da regalo perché così ci portiamo un po avanti col lavoro poi fa una piccola panoramica dello stato attuale della casa e devo dire che c'è un bel po di caos natalizio soggetti e decorazioni sparsi un po così a caso a fine vlog ci mostra anche il finto camino addobbato a festa e poi ci saluta perché perché si è fatta una certa e lei se ne va a dormire quindi il vlog di chiara si conclude in questo modo ora volendo fare qualche considerazione in merito a questo vlog e mass non lo so forse sbaglio ma quest'anno a guardare gli innumerevoli vlog e mass di chiara mi è sembrata veramente poco frizzante o perlomeno rispetto agli altri anni anzi a essere onesti a tratti appare proprio triste a questo viso un po stanco ma non una stanchezza fisica una stanchezza del tipo sai quando una cosa la fai tanto per però comunque ti si legge in faccia che la stai a fa contro voglia poi ha questo sorriso di circostanza che è comunque tradito dal tono di voce dallo sguardo un po cupo ora per chi ha seguito buona parte dei vlog mass di quest'anno di chiara cosa ne pensate voi vi sembra la solita chiara o come ho avuto percezione io vi sembra una chiara un po spenta poi comunque avremo sicuramente modo di confrontarci tramite commenti esattamente sotto questo vlog poi tra l'altro sbirciando un pochino su quello che il canale di coppia davide chiara channel ho visto che davide sta alternando live di auguri a live di di offese c'è del tipo allora adesso in live con buon pomeriggio però prima aveva fatto una live col titolo fate pena sempre pietosi poi buon santo stefano e poi fate schifo nemmeno a natale la smettete cioè a questa dualità no che non sa bene se fare la parte del cattivo o del bravo del buono come si dice buona cosa del genere un altro dettaglio che balza subito all'occhio dalle miniature delle varie live che davide per sei e dico ben sei live di fila assù sempre non lo so se è un maglioncino se è un pigiama sempre lo stesso ecco benissimo ebbè è che gli vuoi dire bene questo per oggi quindi è tutto a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto ciao a tutti da gossip ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti